Ciao a tutti, sono Elle e benvenuti al mio canale e a questa lettura della seconda parte del capitolo Ultimi giorni di attesa parra addio al celibato e questa è la parte di addio al celibato Avevo già iniziato a raccontarvela con Mamoru che era uscito insieme ad Aru che sono loro due perché lui amici maschi non ne ha e lei insomma lo ha portato a fare un aperitivo, hanno flirtato con delle ragazze Su questa cosa che Mamoru non ha degli amici maschi avrei potuto volendo inserirci i miei personaggi maschili che oramai ci sono, Mamoru li conosce però non sono amici nella mia storia, sono compagni di sventura diciamo così e tra l'altro loro al massimo in certe occasioni hanno fatto comunella tra di loro perché sono compagni di Sailor mentre lui oltre a essere compagno di Usagi è proprio parte attiva come combattente quindi è una cosa diversa rispetto a loro e di conseguenza sono ancora separati diciamo così e Aru che invece col suo essere un po' maschile così mi sembrava la presenza adatta a farlo sciogliere un attimino e qui arriva ragazzi la parte più piccantina della mia storia e ve la leggo sperando che il tubo, lo chiamo così, non me lo censuri allora iniziamo quasi subito stanno andando a casa di Mamoru, Aruka e Mamoru insieme per cosa? per la parte, seconda parte del piano di Aruka inizia la lettura appena entrarono nel suo appartamento Mamoru fu molto felice di ritrovarsi tra le quattro mura di casa sua la serata con Aruka gli era piaciuta ma si sentiva meglio ora che era più al sicuro si girò a guardarla mentre lei apriva il frigo i miei gatti guardate hanno avuto tutto il pomeriggio e decide adesso, beh, grazie eh, di andare a far casino nella sabbia oi, qual è il tuo dramma? no, lo ignoro adesso si girò a guardarla mentre lei apriva il frigo Aruka non era una minaccia quella sera erano diventati qualcosa di simile ad amici lei tirò fuori il vassoio che lui aveva approntato per la serata oh, roba preparata in un ristorante pensavo che l'avessi presa al 7-11 sotto casa non sono così pezzente il tono tagliente le causò un sorriso lento devi bere più spesso ti fa dire quello che pensi l'obiettivo non sarebbe quello di essere sincero da sobrio? accontentiamoci un passo alla volta come se si trovasse nel proprio appartamento Aruka lo invitò ad accomodarsi in salotto servì da sola due calici pieni d'acqua invitandola a rimanere seduto quando si accomodò anche lei iniziò con calma a mangiare una delle tartine buone, fortuna che ce ne sono tante mi è venuta fame lei stava prendendo tempo si rese conto a Mamoru allora, cosa hai in mente? sei troppo sulla difensiva Mamoru riconobbe che era vero scusami, sono solo... curioso tranquillo, non faremo niente che non vuoi Aruka lo stava trattando come una ragazzina ingenua che doveva essere calmata e introdotta lentamente alle novità lo trattava come lui aveva trattato... rammentando, Mamoru si adagiò sullo schienale del divano gli stava venendo voglia di un po' di buon vino rosso era l'unico sapore adatto ad accompagnare il ricordo che l'aveva invaso Aruka lo osservava, maliziosa cosa ti è venuto in mente? lui cercò di trovare ragioni per non parlare ma i suoi freni inibitori gli chiedevano tregua ricordavo la prima volta che sono stato con Usagi stato nel senso che intendo io? sì, ma è una cosa... non dire personale è e sarà sempre un'esperienza privata ma a volte bisogna condividere un po' di tanta bellezza sento che ne hai voglia chi esce da dentro? quegli incitamenti erano... teneri Aruka pensava di riuscire a gestirlo la cosa incredibile era che ci stava riuscendo Usako, confessò non è stata timida durante la nostra prima volta ma ai miei occhi lei era... delicata avevo paura di toccarla in maniera troppo rozza o di eccitarmi così tanto da non fare le cose per bene lei era più sfacciata invece mi ha convinto a non fermarmi Aruka cercò con tutte le sue forze di non scuotere sconsolata la testa era andata proprio come aveva immaginato tra loro alla fine proseguì Mamoru nemmeno Usako sapeva cosa fare ne sapeva a meno di me e io avevo paura che non fosse cosciente di cosa mi stava chiedendo magari le sarebbe sembrato una cosa volgare, violenta o... violenta? si domandò Aruka perché avevi questa idea? lui tornò a vederla l'accoppiamento non è sempre una faccenda romantica Aruka volle una medaglia era riuscita a non sbottare di fronte al termine avevi in mente quello che avevi visto nei... documentari? soffocò un altro suono Mamoru aveva in faccia una smorfia gli sembrava di non riuscire a esprimersi bene tra gli animali non è una faccenda piacevole ma non pensavo solo a loro anche nei manga hentai la rappresentazione del sesso è... dura la ragazza viene girata, spinta, soverchiata, usata Aruka si tranquillizzò la cultura sessuale del suo principe comprendeva gli esseri umani lui continuò a spiegare io leggevo alcuni di quei manga e trovavo la vista dei corpi nudi femminili eccitante ma... anche se cercavano di farmi pensare che quel modo di trattare le ragazze fosse piacevole per loro io sapevo che non era vero a Usagi non sarebbe piaciuto essere toccata così con prepotenza perciò mi preoccupavo ero capace di non impormi su di lei ma nella rappresentazione pornografica del sesso doveva esserci un po' di verità mi riferisco all'irruenza dell'atto picchiettò l'aria con un pugno permettendo ad Aruka di capire cosa intendeva vergognandosi Mamoru ritirò subito la mano lei cercò di essere elegante temevi di lasciarti trasportare? esatto, chiarissò allevato lui temevo di schiacciarla, di darle fastidio essere così concentrato su di me da non capire quando lei voleva smettere cosa del genere non era del tutto insensato parliamo della Usagi di qualche anno fa un coniglietto fluffoso e innocente Mamoru si sentì compreso mi sembrava di traviarla povero principe quel coniglietto fluffoso però era già pronta a scatenarsi dopo un annetto o due di baci Mamoru si sentì a disagio Usagi era ancora infantile in certi atteggiamenti certe volte se ne saltava fuori con frasi così ingenue ad esempio vorrei stare tutta la notte abbracciata a te quello era un invito sessuale sbuffò Aruka me lo diceva mentre eravamo fuori casa e avevamo appena finito di dirci frasi romantiche non so come poteva essere più chiara obiettò lei Mamoru però era sicuro di non aver frainteso la sua idea era stare abbracciati a guardarci negli occhi a dirci che ci amavamo fino ad addormentarci lui annui per sottolineare il punto era proprio una bambina Sara ma Seiya che non la pensava così già a sedici anni la guardava come si fa con una donna non ha torto Mamoru strinse gli occhi irritato Aruka sfoderò un sorriso smaiante ora che se n'è andato e non è più un pericolo posso usarlo per ingelosirti hai corso un bel rischio a lasciare la tua principessa in fiore tutta sola in balia di chi non la considerava tanto piccola solo poco prima che andassi via disse lui Usagi ha provato a dirmi che voleva fare qualche passo in più con me almeno credo ho un vago ricordo di quando ero sotto l'influenza di Nihelenia Aruka sbattì una mano in aria non volevo parlare di nemici alla fine è andato tutto bene sei tornato e hai fatto felice Odango l'hai fatta felice vero? o sei stato imbranato come pensavi? l'insulto servì a scioglierlo ulteriormente mi sono assicurato di non fallire in che modo? Mamoru portò alla bocca il calice di improvviso gli sembrò inadatto che fosse solo acqua tenne bassi gli occhi mi sono occupato di lei molte volte prima di occuparmi di entrambi Aruka liberò una risata leggera quanta maestria nel parlare di sesso lasciando perdere la frecciata lui si alzò e andò a recuperare la bottiglia di vino dove vai? ti va del vino rosso? Aruka avrebbe potuto gridare alleluia cercò di moderarsi grazie il suo principe era come un uccellino che stava spiccando il volo nel mondo dei discorsi per adulti con qualcuno che non fosse la sua futura moglie era il momento di lodarlo un po' sai che tante donne non provano orgasmi durante la loro prima volta? sei stato bravo soprattutto venendo da roba semplicistica come gli hientai mi era informato su dei libri seri per capire meglio ne ho sfogliati diversi per capire dove fosse il clitoride rendendosi conto della parola che aveva usato Mamoru trangugiò in un colpo solo il bicchiere che si era appena versato il fatto è che è complicato trovare quella parte del corpo femminile negli schemi è in bella vista ma nelle fotografie non si vede con chiarezza Aruka rise in silenzio mentre lui tornava al divano non vergognarti hai fatto bene per me è stato tutto semplice mi attreva un corpo che funzionava come il mio sarei stata più nervosa se avessi avuto a che fare con un pene Mamoru si immobilizzò Aruka si massaggiò il mento è vero che voi avete tutto di fuori ma fa un po' senso il calore del vino che si diffondeva nel suo ventre lo convinse a replicare è perché sei lesbica? no l'ho sentito dire anche a donne etero Aruka si è mise dritta con la schiena ehi mi hai chiamata lesbica Mamoru non capisse l'aveva offesa finalmente hai sempre girato intorno alla questione ma no sì invece io e Micira eravamo compagne donne speciali con tendenze sessuali particolari si dice lesbica principe usa il termine quando vuoi ci rende orgogliose Mamoru non aveva compreso di essere stato indelicato senza volerlo quelle sono espressioni che ho usato di fronte agli altri giusto? non ero sicuro se volevate far sapere di voi a qualunque estraneo anche se poi diventa chiaro quando vi si conosce cercavo di di non rivelare al posto nostro una cosa che poteva essere privata grazie Aruka sospirò prendendo il bicchiere che era stato versato per lei se vivessimo in un mondo differente dichiarare che sto con Miciro non sarebbe motivo di imbarazzo per nessuno in America è così? domandò per questo lei e Miciro erano andati a viverci? la situazione rispose Aruka non è molto diversa comunque Amici e io non ci facciamo di questi problemi nessuno osa avere un giudizio su di noi quando viene a sapere che siamo una coppia o forse c'è l'anno e ce ne frega così poco che non ce ne rendiamo conto fece spallucce non è per noi che queste cose mi preoccupano su quella nota per un po' smisero di parlare Mamoru volle farle una promessa quando sarò re farò sapere a tutti che per me non esistono differenze tra le varie coppie lo so sistemerò tutto col tempo quando lui parlava così le ricordava talmente tanto Usagi che per un momento Aruka si aspettò di ricevere un abbraccio da lui di natura più pacata però Mamoru si limitò a guardarla negli occhi ma non per questo le trasmise meno vicinanza o voglia di fare di tutto per assicurare la sua felicità lui ne meritava proprio molta ho notato che non hai citato i porno nel tuo discorso sull'apprendimento del sesso Mamoru rimase sorpreso dal cambio di argomento è perché non ne ho guardati molti dal modo in cui lui le sfuggì con lo sguardo Aruka sospettò che molti significasse nessuno non sei andato a vivere presto per conto tuo? Mamoru non capì cosa c'entrasse un ragazzo solo spiegò Aruka nel proprio appartamento col proprio televisore e non hai guardato dei porno? lui cercò di non arrossire ho avuto voglia di provare ma ho incontrato delle difficoltà quali? Mamoru faticò a parlare i manga hentai sono più accessibili si trovano anche nelle librerie normali i commessi non ti guardano troppo male quando ne compri uno specie se li mischi con i libri universitari hanno sempre pensato che io fossi abbastanza grande per prenderli o forse avevano ignorato il particolare dell'età pensò Aruka avendo pietà di un povero studente assatanato per i video pornografici continuo Mamoru è un'altra storia quando mi sono deciso a non leggiarne uno c'era una commessa donna la volta successiva con un commesso uomo un cliente della videoteca in fila davanti a me aveva anche lui dei porno in mano il commesso lo ho guardato con disgusto e con passione magari era un otacco che noleggiava solo quel tipo di titoli io non lo sapevo per me era così importante fare bella figura con gli adulti ed essere ben considerato da tutti non mi sono azzardato a presentarmi la cassa la terza volta che ci ho provato in un negozio diverso mi ha preceduto un ragazzino più giovane di me il proprietario del noleggio gli ha chiesto un documento che certificasse la sua maggiore età quando lui ha detto che non ce l'aveva il signore ha iniziato una ramanzina sulle fasi della vita il pudore da rispettare in pubblico la sfrontatezza dei giovani sono scappato via dal locale Aruka stava cercando di non sussultare dalle risate ok ma trasmettono materiale pornografico anche in televisione l'ho scoperto tardi cosa intendeva? Usagi aveva avuto un incubo e mi aveva chiamato a tarda notte io avevo appena finito di parlare con lei al telefono quando ho acceso la tv per riaddormentarmi e c'era un film porno Usagi aveva appena finito di dirmi che mi amava tantissimo mi sono sentito così in colpa che ho spento subito mamora omise di menzionare il sogno a luci rosse che si era poi fatto quella notte Aruka non frenava più le risate ti fece un paio di conti scusa ma non avevi già 17 anni o 18 quando stavi con lei? 17 18 al tempo di questo incidente Aruka era incredula ma vivevi da solo da un sacco di tempo come facevi a non aver mai visto la tv di notte? lavoravo part time e crollavo a dormire presto se stavo alzato fino a tardi lo facevo per prepararmi agli esami di ammissione all'università era ridicolo che lui avesse ignorato che i film che tanto cercava di vedere fossero disponibili sulla tv di casa a scuola indagò Aruka nessuno degli altri ragazzi aveva mai parlato dei programmi che danno in certi canali? non davanti a me? Aruka non faticò a crederlo con quel piglio da studente modello tutto compito e perfetto una volta raccontò Mamoru ho sentito un discorso simile dal lontano così ho provato a guardare la tv intorno a mezzanotte ma troppo presto andava in onda continuò Mamoru un poliziesco americano era così avvincente che ho pensato che quando gli altri ragazzi parlavano di programmi interessanti intendessero quello Aruka aveva un solo commento da offrirgli che vita triste Mamoru sbatte gli occhi lei non si stava referendo al fatto che lui fosse cresciuto senza genitori che fosse vissuto in un orfanotrofio che avesse passato la maggior parte della sua esistenza sentendosi solo la sua vita era triste perché non aveva visto dei porno scoppi a ridere di gusto con gioia Aruka vide il ragazzo spensierato dietro l'uomo che si preparava a diventare re e capì che la serata aveva preso il volo il caro Mamoru aveva un colorito rosato perenne sulle guance segnò che l'alcol l'alcol ormai faceva parte di lui che dici ti va di rimediare stasera la tua mancanza eh lei diede dei colpetti allo zainetto in pelle che aveva appoggiato sul divano ho portato un paio di film Mamoru spalancò la bocca film per adulti è ora di completare la tua educazione lo lasciò senza parole e lei insistette da pari dai hai sognato per tanto tempo di vederne uno non sognavo di scusa preferisco di no a due giorni dal matrimonio non è bello mettermi a guardare altre donne nude voglio solo sentirmi romantico per Usagi Aruka capì di meritare un pene più di lui doveva giocarsi l'asso nella manica pensi che quando sarai sposato riuscirai a vedere questi film Mamoru la guardò di sottecchi Usagi ti starà sempre intorno visto che sarà tua moglie per come sei fatto anche quando non l'avrai vicino tu ti sentirai in colpa la sola idea di guardare un porno per nulla tra l'altro non saprai nemmeno che puoi separare attrazione e l'amore che provi per tua moglie dall'eccitazione visiva che ti deriva dal vedere atti sessuali tra estranei non guardi altre donne guardi come reagisce un corpo femminile immaginerai che sia Usagi più spesso di quello che pensi e avrai ancora più voglia di sperimentare con lei Mamoru dubitava di poter confondere altri corpi con quello della sua fidanzata inoltre non ho bisogno di ulteriori stimoli non importa fallo per lei come farai a renderla felice al letto se non impari come puoi non hai esperienze sessuali con altre donne non guarderai porno imparo ascoltandola guardo come reagisce tutto molto bello ma l'esperienza altrui aiuta sempre Haruka era molto convincente e se non fosse stato alle porte del proprio matrimonio Mamoru avrebbe avuto meno remore aveva la testa leggera in quel momento ma non abbastanza da prendere una decisione simile senza prima aver sentito ogni senza prima aver sentito abbattuta ogni obiezione fare l'amore recitò non è come nei porno l'ho letto spesso quindi quello che vuoi mostrarmi mi sarà davvero utile probabilmente lui ne sapeva già di più Haruka si concentrò per rispondere ci sono due modi per guardare i porno ridendo come dei matti per quanto sono ridicoli le scene o se si tratta di roba buona lasciandosi coinvolgere prendendo appunti mentali oggi ho qui con me entrambi gli esempi cominciamo da quello comico prendila come un'esperienza di cultura generale non è possibile che il futuro sovrano della terra ignori cose che tutti i suoi sudditi adulti sanno donne comprese fu l'argomentazione giusta per convincerlo va bene capitolo a lui non poteva rimanere ingenuo come un ragazzino dopo tutto ma se mi sentirò a disagio spegniamo tutto certo udì un borbottio cosa? verginello tossicchiò Haruka scusa ma sei così pudico e timoroso Mamoru non smetteva più di divertirsi metti quella videocassetta nel registratore ormai si sentiva sfidato quando Haruka si alzò ad eseguire gli tornò un po' di nervosismo la situazione era strana non disse niente anche quando lei prese in mano il telecomando Haruka lo fissò e comprese tutto siamo due amici che stanno per farsi quattro risate non un uomo e una donna che guardano dei porno insieme non ci sarà nessun imbarazzo a meno che tu non ti ecciti così tanto da tirartelo fuori e menartelo confido però che ti controllerai Mamoru risi a squarciagola che c'è? sei volgare oh lei ne era cosciente Miciro dice che quando bevo finisco esce fuori la scaricatrice di porto che è in me sopportami volentieri pensò Mamoru almeno non era il solo di cui ridere la videocassetta iniziò a girare riempiendo lo schermo di un sottofondo nero con i titoli di una casa di produzione Haruka fermò il video e sollevò un indice in aria aspetta si guardò attorno e afferrò il cuscino che aveva vicino glielo lanciò Mamoru lo ricevette con un sopracciglio alzato mettilo sulle gambe gli ordinò lei perché? lui capì prima di terminare la domanda magari quello che vedrai ti piace magari no e se ti succede qualcosa se ti succede qualcosa là sotto preferisci che io non lo sappia giusto? Mamoru si piegò sul cuscino come se ne andasse della propria vita già allora siamo pronti? cominciamo! era una cosa da ridere si ripete Mamoru una cosa da ridere il filmato iniziò con l'inquadratura di una stanza con una grande vetrata che dava su un giardino sul letto una ragazza europea dai lunghi capelli castani sfogliava annoiata un libro scommetto che non si tratta di un manuale di chimica la battuta gli strappò un sorriso Arukanui sottolineando con la propria disinvoltura che non c'era nulla da temere da temere nell'esperienza che stavano vivendo è un porno dell'est Europa spiegò potevo buttarmi sul panorama nipponico ma sarebbe stato troppo scontato nel filmato una seconda ragazza bionda prosperosa vestita solo di una magliettina e di un paio di calzoncini entrò nella stanza chinandosi sull'altra per darle un bacio sulle labbra Mamoru degluti in che senso scontato? quando un giorno vedrai un porno giapponese capirai le ragazze accentuano le voci da bambine che sentiamo alla tv di tutti i giorni ma in chiave sessuale ogni volta che gemono sembrano dei chihuahua in calore Mamoru avrebbe riso se non fosse stato così concentrato su quello che vedeva sullo schermo questo è un video lesbico un trisome per la precisione l'uomo arriva tra poco nelle parole di lei quella doveva essere l'esempio comico di un film per adulti ma al momento lui non ci trovava nulla di divertente le ragazze si stavano accarezzando a vicenda iniziando a spogliarsi se non era quella la perfetta rappresentazione di una fantasia sessuale maschile mmm il verso della bionda lo sorprese non era lei essere stimolata si stava limitando ad accarezzare il lato del seno della compagna l'altra ragazza gettò la testa all'indietro iniziando pure lei a mettere versi mmm cosa c'era da gemere si stavano semplicemente accarezzando i fianchi a vicenda perché poi si muovevano in maniera così coreografata Haruka lo scrutava che c'è cosa pensi di questa scena era un esame stanno fingendo Haruka rilascia un sospiro di sollievo di come questa assurdità è stata ideata da uomini temevo che anche tu pensassi che è così che si comporta una donna eccitata come era possibile Usagi non ti ha raccontato della nostra vita intima lo aveva detto lei so quello che faccio a letto nei racconti di Odango tu sei una specie di dio del sesso ma lei non ha precedenti esperienze quindi magari sta esagerando la tua bravura dopo dio del sesso Mamoru non aveva sentito più nulla si stampò un sorriso enorme sulla faccia Haruka era ancora perplessa in teoria con te potrebbe aver persino provato solo un grande piacere che ha confuso per orgasmo eh no sono in grado di riconoscere un orgasmo femminile punto al dito contro lo schermo se qui dentro ce ne sarà uno saprò dirti quando ti vedo sicuro perfetto non ti darò indizi non ne avrò bisogno ribatte lui piccato nel video le due ragazze iniziarono a togliersi il reggisene di pizzo il tredicenne che era in lui ebbe una grande delusione nello scoprire che le mammelle della più dotata erano finte forse non gli sarebbe importato se in mezzo al petto la ragazza non avesse avuto un solco profondo quanto un canyon che rendeva evidente la presenza di due protesi mammarie innaturali per il suo corpo il seno dell'altra attrice era naturale e molto più piacevole i capezzoli erano un po' troppo piccoli della mammella ma in generale quello era il tipo di seno che per buona parte della sua adolescenza lui aveva sognato di vedere dal vivo e toccare gli sarebbe dispiaciuto non avere più la possibilità di farlo in futuro? no si disse si riteneva esperto in fatto di seni grazie a Usagi sapeva che in presenza di calore i capezzoli si dilatavano una mammella con un minimo di volume tendeva a cadere verso il basso in assenza di sostegno su Usagi l'effetto era piacevole mentre un seno come quello della ragazza del video probabilmente sarebbe parso sfatto sgraziato molto diverso dal singolo momento in cui era esposto all'aria in una stanza con l'aria condizionata sparata al massimo per essere onesto con se stesso se fosse stata Usagi ad essere similmente dotata lui avrebbe amato comunque il suo corpo il seno di lei gli piaceva per come reagiva il suo tocco per l'odore per il sapore non ultimo sorrise per il fatto che vi aveva accesso Aruka lo guardava di nuovo di sottecchi cosa? Che ne pensi del perizoma che indossa la bionda cotonata? Lui si concentrò sullo schermo e fu onesto è eccitante metteva in risalto natiche piene alte i perizomi sono eccitanti ma scomodi ma Moro ridacchiò tra sé perché me lo spieghi? Usagi potrebbe mettersi qualunque cosa per farti piacere giocare col vestiario è importante in camera da letto e per una mezz'oretta va bene qualunque cosa ma sappi che se lei indossa qualcosa di sexy per tutto il giorno sta soffrendo nella speranza di darti qualcosa su cui fantasticare ma Moro si sentì sempre più a suo agio Aruka stava cercando di proporgli strani insegnamenti che razza di vita sessuale pensi che abbiamo io a lei? Beh l'esitazione bastò a confermare le ipotesi di lui hai un'idea sbagliata di Usagi lei è intraprendente e aperta a tutto ma fa solo ciò che la fa sentire bene se indossasse qualcosa che le dà fastidio lo toglierebbe subito anche vedendo che mi piace la cosa che conta di più per me è vederla coinvolta Usagi lo sa senza chiedere nulla fa tutto ciò che è necessario per stare bene ha un istinto naturale per queste cose colpita dal suo discorso Aruka non guardava più il film ok sono meno preoccupata pensavo che in quel campo Odango avesse conservato l'atteggiamento degli inizi della vostra relazione che vuoi dire? ma sì quando tu eri più scostante sembrava che per rubarti un abbraccio in pubblico lei dovesse scalare una montagna offeso Mamoru ebbe voglia di alzarsi a prendere il telecomando per non avere più in sottofondo la serie di gemiti forzati che provenivano dal televisore notando la sua reazione Aruka mise in pausa da solo l'apparecchio non ho già dimostrato di essere cambiato da allora? sì sì la tocchi molto di più di tanto in tanto sei apertamente affettuoso non prendertela era più una mia paura sai nel senso capita di tornare alle origini pensavo che fosse nelle corde di Odango tendere verso qualcosa che sentiva di non poter avere lui scosse la testa Usako non si sforza di conquistarmi sa di averlo già fatto è capace di eccitarmi qualunque cosa faccia e lo sa bene non l'avevo capita ammetto il mio sbaglio Mamoru si sentì più clemente mi piacerebbe poterti spiegare esattamente com'è lei in quei momenti potresti se volessi ah c'era quasi cascato non è solo riservatezza c'è anche un po' di celosia anche se si tratta solo di parole vorrei che quella parte di lei fosse solo mia beh questo è un concetto sia romantico che sessuale bravo principe mi piace per quell'approvazione Mamoru la perdonò rimetti in play il film ora sei curioso tra una cosa e l'altra stava reggendo la visione piuttosto bene ormai ho cominciato tanto vale andare avanti Aruka fece ripartire la riproduzione della videocassetta mentre le ragazze si rotolavano insieme sopra le coperte con ancora la biancheria intima addosso l'inquadratura si allargò piano fino a includere tutta la stanza la porta si aprì facendo entrare un uomo costepatà? Mamoru fu certo che il tizio avesse detto un'altra cosa ma lui gli udì così le parole le ragazze si staccarono di scatto fingendo sorprese e mortificazione Aruka si rasporta verso lo schermo cosa darei per sapere che dicono? che lingua è? cieco slovacco o magari russo ora lui si avvicina e comincia a sgredarle indignato la recitazione di Aruka gli causò spasmi di ilarità lei improvvisò una traduzione agitando un pugno come osate baciarvi sul letto svergognate siete cugine? l'uomo puntò alla patta dei propri pantaloni in maniera enfatica e ridicola se proprio volete qualcosa da fare venite dal vostro cuginone ma Moruno smetteva più di tremare con le spalle perché per te sarebbero parenti? si somigliano e vedrai anche tu che hanno un neurone in tre questi fanno parte della stessa famiglia le ragazze del video scesero di corsa dal letto e si ingerocchiarono ai piedi del nuovo arrivato accarezzando gli vogliose glutei e cosce la mano di una di loro iniziò a slacciargli la cintura dei jeans per Momoru fu una conferma stava vedendo qualcosa che aveva sempre trovato erotico a livello di idea ma la rappresentazione era talmente assurda da lasciarlo più incuriosito che eccitato a 16 anni aveva creduto che solo arrivando ad assaggiare alcuni tipi di perversione avrebbe sentito di vivere al massimo la propria vita sessuale non era mai arrivato a sognare di stare con due ragazze ma per esempio a livello di sesso orale aveva desiderato di trovare una lei che fosse disposta a fare tutto quello che aveva visto nei manga hentai senza remore si era convinto che un uomo che non otteneva lo stesso tipo di dedizione stesse vivendo il sesso a metà era stato ingenuo e infantile le sue fantasie ora erano più realistiche e assai migliori di quelle a cui stava assistendo anche se ammise strofinandosi il mento era interessante osservare le mani di due donne che massaggiavano con ardore dei genitali maschili adesso avrebbero usato la bocca vero? Aruka lo stava di nuovo fissando cosa? un dito di lei puntò allo schermo posso saperlo solo da te è vero che i peni di solito sono molto più piccoli di quello? Mamoru gettò la testa all'indietro scoppiando in una risata fragorosa mi dispiace gridò Aruka cercando di non ridere come lui ma chi altri posso chiederlo? allora anche a lei mancavano le amicizie maschili è il primo porno che guardi con un uomo vero? non me ne pento cercando di ridarsi un tono Mamoru valutò le dimensioni dell'attore del filmato mmm sì l'uomo medio ha meno roba fra me un'altra risata gli venne un dubbio ma tu non eri esperta di film pornografici? non quanto vorrei e diciamocelo che motivo avrei di guardare film etero? ne conosco meno di una ventina visionati quasi tutti per trovare qualcosa di adatto a questa serata nella maggior parte dei casi abbiamo membri di quella dimensione lì indicò il televisore mentre in un paio di porno giapponesi ho assistito a uno spettacolo disolante a livello di centimetri eravamo messi così indicò la misura avvicinando i palmi Mamoru cercò un commento adeguato mentre le casse del televisore continuavano a trasmettere i gemiti esagerati delle attrici Aruka interpretò male il suo silenzio ho toccato un tasto dolente scusa? eh? perché pensava che lui potesse risentirsi per con l'aria che gli entrò in bocca si sarebbe potuto riempire un pallone aerostatico io non sono così piccolo ma non sei neanche un gigante eh? Mamoru batte un pugno sul ginocchio sono un futuro re mi rifiuto di discutere dei miei genitali tranne per dire che non sei minedotato lui ebbe voglia di strozzarla allegra Aruka gli versò un bicchiere di vino su beviamo alla virilità del futuro sovrano della terra tutta quell'ironia era fuori luogo se dovessi spogliarmi non mi vergognerei lei si divertì come non mai non tengo a verificarlo non era un'offerta era solo un'ipotesi per tentare di farle capire la verità Aruka se la rideva sotto i baffi chi protesta troppo Mamoru ribollì chiedi a Usagi non può fare paragoni saprà dirti la misura con le mani Aruka spalanco la bocca mi stai invitando a chiedere alla principessa della luna di descrivere con le sue regali dita le misure anatomiche del suo futuro sposo Mamoru si infilò le mani nei capelli Aruka adorava vederlo tanto scomposto stai calmo ti sto prendendo in giro più o meno sono sicura che il destino non ti abbia fatto così carino solo in faccia sei il futuro re e rappresenti sicuramente il modello di perfezione fisica a cui devono ambire tutti gli uomini terrestri rilasciando un sospiro disperato Mamoru si allungò a prendere la bottiglia mezza vuota di vino che discorsi mi hai fatto fare discorsi umani sarete stato normale se non te la fossi presa sentendo minacciata la tua mascolinità a favore di tutti i suoi sudditi Mamoru ebbe voglia di dire che la mascolinità non era una questione di misure ma fu certo che Aruka avrebbe malinterpretato la sua obiezione perciò fece saggiamente silenzio Aruka capì di dover rientrare nelle sue grazie ti farò un'altra domanda da donna ignorante sulla questione anche se di figa io ne so parecchio con la fronte appoggiata sulla mano mezzo stravaccato sul divano Mamoru scosse la testa rassegnato con una risata appena accennata sulle labbra sentiamo guarda il video le ragazze si sono spogliate lui se lo sollevò gli occhi in effetti le ragazze si erano completamente denudate una di loro si stava dedicando entusiasticamente e oralmente alle parti basse dell'attore maschio mentre l'altra col sedere all'insù stava improvvisando una sorta di strano balletto a beneficio degli occhi degli spettatori qual è la domanda perché a voi uomini fanno schifo i peli eh nei porno vedo quasi esclusivamente passere denudate a quanto pareva avevano detto addio agli eufemismi capì lui da lesbica apprezzo a mia volta una superficie liscia e morbida da accarezzare Mamoru ma nei porno non si vede l'ombra di un pelo concluse Aruka non parliamo poi degli hentai giapponesi i peli saranno difficili da disegnare ok ma l'idea che se ne ricava è che a voi uomini le donne piacciono là sotto solo se sono ragazzine glabre è inquietante non immaginiamo delle preadolescenti chiare lui al solo pensiero era disgustato voi da donne sapete come è stato il vostro corpo mentre crescevate noi non lo sappiamo e non ci interessa a livello visivo in immagini pensate per eccitare ha semplicemente senso che non ci sia niente tra i nostri occhi e ciò che ci importa vedere nel maggior dettaglio possibile comunque gli uomini che non sono più vergini non disdegnano un po' di peluria ne era convinto il mondo dopo tutto non è un set pornografico Aruka riflette sulle sue parole voglio credere che tu abbia ragione in generale sulla questione rasatura in fondo non è male che ci sia tanta gente glabra nei porno già i genitali maschili non sono granché da vedere figurarsi con del pelo addosso ma Moro espirò un'ultima risata è una fortuna che ti piacciono le donne me lo dico ogni giorno anche io il video era entrato nel vivo dell'azione l'uomo aveva steso la bionda sul letto e la stava penetrando a ripetizione mentre l'altra attrice lo stava leccando su tutta la schiena perché si domandò Mamoru con la lingua completamente distesa la ragazza riesceva ugualmente a produrre gli inutili finti gemiti fossero rimasti tutti in silenzio sarebbero risultati più credibili Aruka guardava lui invece del filmato ecco secondo te la ragazza sul letto sta godendo no rimasero in silenzio sorseggiando di tanto in tanto un po' di vino mentre i tre si davano da fare sullo schermo si davano da fare sullo schermo dopo un minuto di spinte senza nessun cambiamento di ritmo l'uomo uscì dalla bionda come se avesse terminato il proprio lavoro tutta sorridente e ammiccante lei si spostò sul letto per fare spazio all'amica la ragazza è venuta domandò Aruka no l'attrice Castan recitava con grande convinzione mostrando un entusiasmo esagerato nello sdraiarsi davanti a un tizio che si era limitato a fare avanti e indietro nella vagina della sua collega nel sentirsi penetrata la donna emise un gemito di godimento apparentemente infinito come aveva potuto vivere prima di arrivare a quel momento di completezza sembrava dire lei sta godendo no quello era proprio un esame e Mamoru sospettava che non fosse l'idea che Aruka aveva avuto in mente quando lo aveva spinto a guardare quel film lei aveva più curiosità di quante immaginava soprattutto con riguardo alla reazione maschile nel vedere quel tipo di pellicola nel frattempo sullo schermo la ragazza Castana fingeva con maestria di non soffocare la bionda si era chinata su di lei e coprendole il naso coi capelli la stava impegnando in un lungo bocca a bocca la ragazza resistette per 10 secondi buoni prima di riuscire a fingere una carezza al viso della compagna per spostarle la chioma più che in un amplesso i tre parevano impegnati in un esercizio ginnico nemmeno l'uomo era coinvolto come volevano far credere i suoi grugniti lui era più rigido meccanico nei movimenti aveva gli occhi fissi sulle ragazze ma probabilmente guardava attraverso di loro per non venire troppo in fretta l'unica cosa che eccitò un po' Mamoru fu vedere le mani della bionda che trovavano i seni dell'altra ragazza invece di modulare la carezza lei mosse le dita allo stesso ritmo imposto dalle spinte dell'uomo senza curarsi delle sensazioni che mancava di suscitare i porno non sono tutti così vero? no fu la risposta di Aruka assiste tra il cambio di un altro paio di posizioni prima che Mamoru saltasse dritto con la schiena puntando lo schermo ecco quella alta quello alla bionda è piaciuto per un secondo precisò le mani della ragazza castana si erano già allontanate dalla vulva che avevano a malapena sfiorato nei porno era previsto qualche orgasmo si domandò bravo lo lodò senza voglia Aruka non era annoiata con lui ma col film questa roba non fa così ridere senza i commenti al vetriolo di Michiru hai visto questo film con Michiru? certo quando sarete un po' più evoluti anche tu e Odango potrete vivere queste esperienze insieme Mamoru non riusciva a immaginarlo Usagi non solo non si sarebbe divertita ma avrebbe trovato desolante che delle persone vendessero la loro sessualità in quel modo senza ricavarne alcun piacere scocciata Aruka si alzò dal divano abbiamo sofferto abbastanza adesso metto su il film buono lui non sapeva se aveva voglia di vederlo gli andava di parlare piuttosto grazie per avermi convinto a fare questa esperienza non ringraziarmi manca ancora l'esempio migliore tuttavia ho già capito tante cose avevi ragione tu non mi sono imbarazzato come pensavo per forza era un film tremendo lei non lo lasciava finire come dicevi si riesce a rimanere distaccati quando non c'è sentimento non mi sono sentito come se avessi tradito Usagi Aruka si fermò con la cassetta in mano temevi davvero una cosa del genere ora non più mi sento ancora puro visto come ragioni secondo me rimarrai puro fino all'ultimo dei tuoi giorni questo film lei estrasse dall'astuccio una nuova videocassetta sarà molto più educativo per te potrai usarlo per far sentire tua moglie incredibilmente bene durante la prima notte di nozze assieme a tutto il tuo amore eccetera eccetera Mamoru sorrise ho già qualche idea per l'occasione complice l'astinenza che Usagi gli aveva imposto la sua immaginazione galoppava da giorni Aruka non volle non volle sentire obiezioni aggiungerai questa idea al tuo repertorio inseri la videocassetta nel registratore e riprese in mano al telecomando questa volta sono due donne da sole no è un video etero per un momento Aruka tamburellò con le dita sulle ginocchia quando Michiro l'ha visto non ne sono stata così felice Mamoru intuì che il modo migliore per sapere era non chiederle nulla dandogli ragione Aruka riempì da sola il silenzio e il tizio è davvero bravo ho cercato di non essere troppo ovvia nel dimostrare a Michiro che ero in grado di regalarle le medesime sensazioni con la stessa intensità ma lei ha intuito che mi sentivo in competizione Mamoru dovette sapere a Michiro piacciono anche gli uomini non l'aveva mai escluso non credo forse nemmeno Amici sa darsi una risposta è soprattutto un timore mio a quel punto lui aveva una domanda che da sobrio non gli sarebbe mai uscita di bocca vorresti essere nata uomo mai sono molto più bella elegante agile forte e potente di qualunque maschio alla lista di quelle qualità lei doveva aggiungere la modestia Aruka riempì d'aria le guance tuttavia spero che l'alcol ti faccia dimenticare quello che sto per dire ma non mi dispiacerebbe sapere cosa significa possedere Michiro con una mia appendice basterebbe una sola volta lui poteva non essere versato in campo pornografico ma sapeva qualcosa in merito ai giocattoli sessuali non esistono delle cinture che le donne possono indossare con attaccati dei falli di plastica Aruka strabuzzò gli occhi Mamoru non capì cosa? ma tu non eri innocente? ma non era un bambino ho letto un sacco di riviste erano i film il mio problema Aruka cercò di mantenersi composta ho fatto un pensiero su quel tipo di oggetto ma prima passerò qualche anno a dimostrare a me stessa e a Michiro di non averne bisogno non era una questione di necessità se ti andassi di provare non devi prenderla tanto seriamente sarebbe solo un gioco Aruka non sapeva più cosa pensare di lui prima sembra un ragazzino adolescente poi te ne salti fuori con queste perle di saggezza da uomo navigato sono un uomo sto per diventare un marito Aruka si aprì di nuovo in un sorriso congratulazione di nuovo per questo completamente brilli brindarono all'unisono non si erano nemmeno accorti che il secondo film era partito Mamoru osservò lo scenario è un centro massaggi qualcosa del genere è una seduta privata lui lei tante candele e olio profumato da stendere sulle membra vellutate della cliente seminuda rilassandosi Mamoru osservò la scena la differenza col primo film era lampante l'attore massaggiava la ragazza del video senza fretta concentrandosi su zone non erogene mani braccia polpacci la ragazza capelli neri e seni normali rimaneva sdraiata a pancia in su con gli occhi chiusi senza emettere suono un asciugamano la copriva sul ventre lasciando intravedere quasi tutto del pube spoglio il massaggiatore si spalmò le mani di altro olio e con fare deciso e delicato passò a massaggiare l'interno coscia di lei si udì a malapena un sospiro la reazione principale dell'attrice fu un brivido e il petto che si riempiva d'aria Mamoru approvò il risultato finale era molto più realistico i preliminari vanno avanti per parecchio gli anticipò Aruka come dovrebbe essere in un rapporto reale era un altro consiglio di solito tu quanto tempo impieghi non ne ho idea ma non vado di fretta è Usagi a farmi capire quando è caldo abbastanza da passare alla fase successiva bella risposta Odango sta con l'uomo giusto nessun complimento avrebbe potuto appagarlo di più mentre guardava l'inquadratura che indugiava sul corpo lucente disteso sul lettino massaggi Mamoru si sentì maggiormente coinvolto la musica d'atmosfera aiutava massaggiare con Usagi gli pareva di non farlo ma è abbastanza lei è morbida come una pesca eh? Usako non come seta che è fredda e non abbastanza viva Usagi invece ogni volta che la tocco sento che potrei accarezzarla per sempre l'interno dei polsi il retro del collo i fianchi non osò dirlo ma mentre osservava il massaggiatore che infilava le mani tra le labbra più intime della ragazza trovando solo territorio liscio immaginò che sarebbe morto se avesse potuto toccare anche lui la piena morbidezza di Usagi una volta lei aveva tagliato i peli del pube rendendoli così corti da farli apparire quasi inesistenti al tocco la linea interna del suo inguine era risultata essere lo scampolo di pelle più soffice che lui avesse mai sfiorato così morbido da fargli credere che non potesse appartenere a un essere umano lo aveva dorato con le dita piano fino a cospargerlo di umori lucenti ricordava quel giorno d'estate e il modo in cui Usagi si era dimenata dolcemente sul letto stringendosi al suo corpo l'odore salato dei suoi seni il suono spezzato dei suoi sospiri il cuscino che Haruka gli aveva passato era finito buttato di lato Mamoru valutò se recuperarlo lei era persa in un proprio mondo tu pensi a Odango io a Michiru e magari ho una cosa a tre con la ragazza del video Mamoru si lasciò scappare un sorriso lo fareste davvero? nah ma in quanto a immaginare due sono meglio di uno io e Michiru faremmo conoscere il paradiso a quella donna o erano molto brave o erano molto sicure di sé fareste meglio del massaggiatore del video? faremmo in modo diverso useremmo le conoscenze che solo un'altra donna può avere qualunque femmina dovrebbe provare le mani esperte di un'amante saffica lui capiva cosa intendesse dire però Usaku dovrà accontentarsi di me Haruka sorrise nel sentirlo difendere il suo territorio non lo dico per fare un complimento al nostro genere vale anche per voi uomini ho sentito dire che difficilmente una donna sarà mai brava quanto un maschio a fare un pompino solo voi sapete come maneggiare al meglio il vostro attrezzo e cosa si prova nel sentirlo stimolato Mamoru non trattenne una smorfia vivrò senza il bisogno di vivere questa esperienza alternativa Haruka era in vena di fare filosofia magari la nostra chiusura mentale è compromettente e ci sta precludendo enormi piaceri ah sì tu andresti a letto con un uomo no ecco anche io penso che ci siano cose che un uomo può fare molto meglio di una donna a letto ma dato che a te non interessano non ne sentirai la mancanza certo era un discorso ipotetico per dire che in fondo tutte le donne dovrebbero provare l'abilità di mani come le tue già la sua arroganza non conosceva confini Mamoru immaginava che dovesse essere liberatoria nei tuoi sogni proibiti in ogni donna c'è una potenziale lesbica affermò morirò credendolo lui rise in silenzio nel video in maniera graduale il massaggiatore era arrivato ad affondare due dita dentro la ragazza invece di assaltarla come aveva fatto l'attore dell'altro film scivolò dentro di lei accurato e lento attento a toccare ogni pertugio del suo corpo Mamoru udì un primo gemito questa è una reazione reale inutile ribadirlo sarà un crescendo da questo momento in poi ad un certo punto ho voluto credere che lei fingesse ma nessuna è così brava quello che stava imparando Mamoru era che un giorno poteva comprare un olio per massaggi e fare la stessa cosa a Usagi nel filmato l'uomo smise di toccare la compagna si ritrasse di qualche passo e senza fretta iniziò a spogliarsi dalla maglietta dei pantaloni che indossava Mamoru immaginava che si trattasse di un porno americano il tizio era piuttosto pompato con un fisico da calciatore di football aveva le mani grosse le cosce massicce e vedendolo levarsi le mutande constatò che era imponente dappertutto non provò invidia oltre una certa misura la donna media aveva difficoltà ad accogliere l'equipaggiamento maschile si era informato sulla questione consultando vari testi di medicina la vagina era un organo stupendamente elastico ma la capacità di espansione incontrava un limite nel momento in cui sobbentrava il dolore non bastava la giusta lubrificazione quando la disparità di dimensioni era troppa o quando anche fosse stato così generare tutti quegli umori ogni singola volta sarebbe stato un grosso lavoro magari si poteva ricorrere a qualche gel ma difficilmente la penetrazione sarebbe stata completa dal lato maschile almeno compativa l'attore del film che probabilmente si era dato all'industria del porno per la difficoltà a incontrare donne che potessero adeguarsi alle sue misure a volte grosso era semplicemente troppo grosso Mamoru non l'avrebbe mai rivelato ad anima viva Usagi compresa ma nel profondo lui era convinto di avere le dimensioni ideali sia per lunghezza che per diametro era perfetto dappertutto almeno a livello estetico lo aiutava a compensare gli altri i suoi problemi mi dispiace tornare sull'argomento sapeva già di cosa stava per parlare Yeroka vorrei che mi dessi un parere su quello che stai per vedere secondo te il godimento di lei dipende dalle dimensioni del coso di lui no basta molto meno di quello che ha non preoccuparti non dovrai comprare una riproduzione così grande al massimo dovresti dotarti degli stessi suoi muscoli glutei quadricipiti sono quelli che danno la forza alla spinta interessante un pensiero rallegrò Aruka non è bello essere persone potenti concentrandomi potrei sollevare un camion con la sola forza delle braccia attenta a non asfaltare Michiru sorrise Mamoru lei sognò mi pregherebbe di continuare nel filmato l'uomo liberò la ragazza dall'asciugamano la tirò a sé per i fianchi portandola sul bordo del lettino trovandosi all'altezza ideale cominciò a penetrarla fu un inizio rapporto abbastanza tranquillo tranne per il modo in cui era posizionata lei semi impiegata con una gamba sollevata di lato distesa su un fianco occhi chiuse la ragazza si teneva con la mano all'estremità del supporto per offrire resistenza alle spinte profonde ancora poco incisive Mamoru iniziò a fissarsi nella mente i dettagli non aveva mai provato quella posizione con Usagi probabilmente perché non l'aveva mai presa su un tavolo Aroka terminò di bere dal proprio bicchiere di nuovo sento che non ci stiamo ubriacando abbastanza è la nostra energia planetaria commentò lui distratto secondo te ci impedisce di abbronzarci di sbronzarci scusate già non la senti agire? no tu sì? Mamoru annui senza staccare gli occhi dal televisore vede la sbronza come un pericolo non ci permetterà di ubriacarci oltre un certo livello sta già iniziando a guarirci non è giusto si scandalizzò Aroka voglio il diritto di dimenticare tutti i miei problemi se ne avrò bisogno problemi? se impari a gestire meglio Urano potrai comunicargli che non deve difenderti dall'effetto dell'alcol va tutto bene? lei sbatté una mano in aria era per dire gli indicò di tornare a guardare il film ora comincia il bello sullo schermo l'uomo aveva incrementato la forza delle spinte iniziando a strappare i gemiti di diversa intensità alla sua partner Aroka si alzò dal divano hai altro vino? nella credenza lei se ne andò borbottando contro i loro poteri planetari berrò così tanto che dovrò piazzar mia vita sul water alla menzione dei servizi Mamoru si allongò a prendere il telecomando Aroka non era la sola a dover espellere liquidi mise in pausa e si diresse verso il corridoio dove vai? gli domandò lei in bagno Aroka rise a voce alta non vuoi perderti neanche un minuto del film vero? Mamoru non le badò e quando tornò un minuto dopo lei aveva già sistemato sul tavolino una nuova bottiglia di vino aperta ora aspetti me voglio voglio assistere alla tua reazione va bene le concesse lui mentre aspettava Mamoru si versò un altro bicchiere e rimase ad osservare il liquido rosso dentro il calice era vero aveva smesso di ubriacarsi era persino più sobrio rispetto a una decina di minuti prima forse il suo potere si era attivato quando aveva raggiunto una certa soglia di inebriatezza peccato non gli era spiaciuto sentirsi in quel modo ingurgitò un altro bicchiere per intero e provò a comunicare alla terra che non aveva bisogno di essere difeso stava solo decidendo di essere spensierato Haruka tornò indietro fai ripartire lo spettacolo Mamoru obbedì insieme assistettero a una serie di evoluzioni che lo lasciarono a bocca aperta nella posizione in cui si trovava il tizio strappò un primo orgasmo alla ragazza uscì da lei e senza allontanarsi troppo la accarezzò per tutto il corpo mentre lei riposava beata ad occhi chiusi ansimante la tecnica in sé era semplice e molto soddisfacente per le donne almeno lo era per Usagi ma quello che stupì Mamoru fu che l'uomo non era ancora venuto era in pieno tiro eppure riusciva a controllarsi un minuto dopo con pazienza l'attore girò alla ragazza sulla schiena e aprendole le gambe entrò di nuovo dentro di lei i suoi ansiti si elevarono alti dal televisore andavano a ritmo con le spinte ed erano assolutamente genuini con Michiru faccio fatica commentò blanda Aruka eh o riesco a farle avere una serie di orgasmi multipli oppure devo rassegnarmi ad aspettare parecchio per fargliene provare un secondo prova fastidio a ricevere stimolazione dopo un primo orgasmo non sempre dipende dal suo umore erano informazioni parecchio riservate considerando che gli stavano dando un'idea del funzionamento dell'organo più intimo di Michiru Kaio in sé però erano conoscenze interessanti che lui riusciva a tenere separate dalla sua persona o forse no cancellò subito l'immagine che gli aveva attraversato la mente anche con Usagi dipende dalle volte ma in genere è abbastanza ricettiva non sarà principalmente clitoridea come Michi per non imbarazzarsi Mamoru iniziò un discorso scientifico secondo alcuni studi l'orgasmo femminile è di un solo tipo il clitoride si estende per diversi centimetri internamente quindi con una stimolazione indiretta sarà ma la sensazione è diversa te lo dico da donna Mamoru provò a non replicare e per fortuna Haruka non aggiunse altro tra quei discorsi e la visione di un amplesso che provocava reale piacere sessuale lui stava iniziando a provare un formicolio nelle parti basse del corpo era un novellino a paragone dell'attore del video quell'uomo era una macchina aveva il pieno controllo di sé mentre faceva dimenare e gemere la compagna accelerava a comando e poi tornava subito a rallentare senza mostrare di essere in alcun modo vicino al culmine uno dei suoi obiettivi di vita si ripromise Mamoru sarebbe stato quello di padroneggiare allo stesso modo la propria elezione si era creduto bravo ma evidentemente esisteva un livello di capacità superiore spalancò gli occhi spalancò gli occhi un terzo round questa volta la ragazza si era messa a pancia in giù e l'uomo era salito con mezza gamba sul lettino per darsi maggior trazione Aruca stringeva gli occhi scocciata da questo punto avrei voluto che lei iniziasse a fingere e invece se può consolarti un rapporto etero di solito non ha tutta questa durata o intensità mi consola ad un certo punto l'altore salì con entrambe le ginocchia sul letto dietro la ragazza facendole alzare il sedere iniziò a martellare in lei così velocemente che Mamoru fu certo che stesse per arrivare alla conclusione si sbagliò di nuovo quello del tizio era un movimento controllato su cui stava imprimendo grande concentrazione e invece di provare dolore la ragazza riusciva stento a respirare per le troppe sensazioni mentre le spinte la facevano tremare da capo a piedi erano affondi corti rapidissimi ma soprattutto concatenati a occhi serrati la donna afferrava disperatamente il lenzuolo del lettino massaggi stava venendo dopo essere già venuta due volte e Mamoru riuscì a identificare l'esatto istante in cui venne una quarta volta il volto che si deformava in un'espressione di estasi assoluta ricadde in avanti priva di forze nelle braccia persino da sdraiata non smise ad agitare i fianchi per accogliere il partner come se non fosse mai sazia di lui raramente Mamoru aveva visto qualcosa di tanto istruttivo per poco non regalò un applauso al protagonista della performance ma quando vide che l'uomo stava finalmente prendendo la propria soddisfazione fu sicuro che lui non avesse bisogno d'altro non aveva mai pensato che quel tipo di movimento potesse essere così efficace secondo me produce l'effetto di un vibratore commentò Aruka cosa? quella spinta? non l'avrebbe chiesto come lo sapeva esatto non voleva assolutamente immaginare che lei avesse usato un oggetto del genere assieme a Michiru beve altro vino era più semplice scherzare su questioni sessuali quando stava guardando un porno ridicolo piuttosto che un film ben realizzato anche in quel caso forse si sarebbe sentito meno inibito se avesse conversato con un altro uomo senti di fare un torto ad Aruka mi sei grato? rispose lei sorrise lei lui e noi ricomponendosi qual è il titolo di questo film? ahà vuoi rivederlo? inutile negarlo un giorno nel caso avessi bisogno di capire meglio la tecnica ma penso di aver colto la sostanza sullo schermo la scena si avviava la conclusione in maniera inattesa i due attori si stavano baciando con grande intensità e coinvolgimento a Mamoru fu tutto più chiaro si piacciono forse si amavano Aruka gli lanciò un'occhiata beffarda quello è il risultato di orgasmi molto buoni per la passione non deve esserci l'amore lui non era d'accordo o comunque preferiva credere che ci fosse del sentimento nella scena a cui aveva assistito Aruka sospirò ti piacciono i lieti fini non sono un principe per nulla lei si alzò di buona lena ma certo è con questo spirito che hai conquistato la tua principessa Mamoru guarda al soffitto mancano meno di due giorni Aruka si domandò perché lui si fosse preoccupato tanto di sporcare la propria anima candida dopo la visione di ben due film pornografici riusciva ancora a focalizzarsi su pensieri romantici era un puro di cuore lei si adeguò all'atmosfera mentre spegneva il film come pensi ti sentirai quando aspetterai Usagi sull'altare si inginocchiò per recuperare la cassetta Mamoru era rimasto con la testa reclinata sullo schienale rinascerò disse tutto quello che ho fatto e tutto quello che sono stato acquisirò un senso dal momento in cui vedrò Usagi muoversi verso di me vivrò solo per amore dirò addio alle parti di me che ho sempre detestato troppo sorpresa per parlare Haruka non osò affiatare né muovere muscolo Mamoru capì di averla turbata la guardò benevolo sono tante le cose che non faccio o non provo per paura sono tante le cose che sentivo che mi mancavano Usagi è l'altra parte di me con lei amerò di più sentirò di più esisterò di più sarà la versione migliore di me stesso che lei avrò fatto uscire continuavo a rinchiuderla ogni volta che Usagi andava via ma ora la nostra vita sarà una cosa sola per scacciare il peso alla gola Haruka provò il bisogno di scherzare non contare di cambiare da un giorno all'altro comunque vai già bene così come sei Mamoru apprezzò il commento si tirano avanti sul divano ero già una persona di valore ma ora punto molto più in alto è necessario sarò un re come erano finiti a fare discorsi tanto seri per questo stai correndo a sposarti ti serve il trattamento Usagi Mamoru rise è così Haruka non l'aveva mai sentito aprirsi con lei in quel modo si sedette sul divano davanti a lui e cercò di esprimergli la forza di ciò che credeva anche Usagi ha bisogno di te per elevarsi è una persona straordinaria ma non potrebbe essere ciò di cui noi tutti abbiamo bisogno se non ci fossi tu se tu non fossi esistito a colmare il vuoto che lei sentiva aveva bisogno di essere amata non da chiunque da te Mamoru assorbì la bellezza delle sue parole io e lei siamo due pezzi che si incastrano alla perfezione Haruka si rese conto di non avere alcuna idea su un punto fondamentale della cerimonia di nozze tu Usagi vi scambierete delle promesse come nei matrimoni americani sì diremo qualcosa scommetto che tu non hai faticato a decidere cosa scrivere non ho scritto niente mi verrà dal cuore Haruka trasalì improvviserai Michiro avrebbe fatto seppuku il suo orrore fece sorridere Mamoru so già cosa dirò sto rifinendo una frase non sarà molto lunga ma in un momento così importante mi affiderò alla brevità i sentimenti più intensi non hanno bisogno di grandi poemi Usagi saprà cosa voglio dire e se lei invece parlasse tanto l'appunto lo preoccupò un poco tra i due sarò io a parlare per primo abbiamo detto così a Michiro ma se Usagi dicesse molto aggiungerò qualcosa durante il ricevimento o quando saremo da soli al ricevimento insistette Haruka se vuoi diventare davvero una persona nuova inizia a scioglierti in pubblico tutti non vedono l'ora di conoscerti meglio e di apprezzarti come sto facendo io ora fu una delle cose più gentili che Mamoru si fosse mai sentito dire Haruka gli sbadigliò in faccia solo in quel momento lui notò il velo scuro sotto i suoi occhi non hai dormito? ho guardato porno fino a stamattina Mamoru non sapeva se ridere o abbracciarla per lo sforzo ho gradito il sacrificio Michiro mi ha abbandonato dopo il terzo film una settimana fa ma io dovevo trovare quello giusto cioè quello adatto a rendere la luna di miele di Odango indimenticabile non so se avrò l'abilità di riprodurre quella tecnica al primo colpo ti mancano i muscoli dei glutei? lui condivise la sua hilarità mi manca l'esperienza ma sono certo che Usagi mi aiuterà a esercitarmi assolutamente nel posto da sogno in cui andrete Mamoru si è atteso di ricevere un indizio Haruka lo ammonì con un dito ahà non saprai dov'è finché io e Miciro non vi teletrasporteremo sul luogo ma posso assicurartelo sin d'ora in un paradiso come quello Oldango vorrà tenerti legato al letto per un mese perché lei e non io? tu parli e parli ma vorrai tornare qui a organizzare la vostra vita quotidiana dopo appena una settimana Usagi è più rilassata per questo è adatta a te quando sarete di ritorno se l'avrai trattata come si deve vedrai che vorrà continuare la luna di miele per un anno per dieci anni azzardò lui sfidò la sorpresa di Aruka per la propria boria è lo scopo che mi sono prefisso di raggiungere così si parla esultò Aruka un ultimo brindisi vostra altezza Mamoru afferrò al bicchiere di vino Mamoru? Principe? Mamoru? insistette lui come vuoi come vuoi Mamoru amico mio se desideri tanta confidenza dopo i film per adulti non so come potremmo essere più amici Aruka si sfregò le mani sei ingenuo e inesperto te lo farò scoprire col tempo Mamoru rise all'amicizia allora Aruka sollevò in alto il bicchiere ha uno sposo che non vede l'ora di andare all'altare niente di più vero Mamoru bevette la propria salute e inspirò si preparava a vivere i giorni più felici della sua esistenza 13-22 marzo 1997 ultimi giorni di attesa barra addio al celibato fine ce l'ho fatta sono riuscita a raccontarvi questo pezzo e alla fine vedete era lunghino l'altra volta non ce la facevo a leggerlo ho avuto un po' di mal di gola penso che si sia sentito ma altrimenti non riuscivo a leggerlo per fortuna che sto in un'area mia cioè ci manca solo che mi sentano leggere questi contenuti ho la sensazione che mentre leggevo e vedevo tutti i termini che ho usato mi verrà un po' censurato ma a chi se ne importa magari per una volta non gli metto la pubblicità perché è lì il problema più che altro che cosa avete pensato vi ha fatto ridere l'ho voluto rendere volutamente comico in certi momenti tipo con Aroka che commentava i cuginoni che facevano cose sono diventati più amici no? lei e Mamoru nella mia storia mi preparo in realtà a scrivere un secondo addio al celibato non vi dirò di chi diverso tempo dopo questo però e in quel momento le cose saranno cambiate all'interno del mio gruppo di personaggi maschili più in là racconterò anche come diventeranno più amici per ora Mamoru come vedete è focalizzato esclusivamente su Usani ed è giusto così sto crepando di sonno vado a dormire mi raccomando come al solito mi sta davvero rendendo felicissima che mi facciate sapere che cosa pensate fatemelo quindi sapere nei commenti e ditemi in particolare che cosa aveva colpito le parti che vi hanno fatto più ridere quelle che magari vi hanno lasciato perplessi se è successo qualcosa se avete domande anche sui personaggi su quello che ho concepito per loro su qualunque altra cosa fatemele perché mi piace sempre rispondere grazie mille di avermi seguito anche oggi e alla prossima ciao ciao ciao